In Puglia è tempo di saldi, si parte oggi e si proseguirà fino a metà settembre. Una grande occasione per i consumatori che avranno la possibilità di acquistare capi di qualità a prezzi molto convenienti ma anche per le imprese del settore che vengono da un periodo piuttosto difficile conseguenza di una crisi che investe tutto il comparto del commercio. Basta guardare i dati di un imprenditore su due. Il 49% non ha rilevato miglioramenti rispetto al 2014 contro un 26% che riscontra segnali di ripresa e un 24% che registra invece un ulteriore calo. L'auspicio è che dopo i primi segnali di ripartenza dell'economia questi saldi estivi segnino l'inversione di tendenza anche per i consumi. Come ogni anno vi ricordiamo di stare attenti per evitare fregature e prese in giro. Non fermarsi al primo negozio che pratica sconti ma visitarne diversi e confrontare i prezzi esposti e la qualità della merce di riferimento. Non lasciarsi ingannare da sconti che superano il 50% del costo iniziale. Conservare lo scontrino. Non acquistare nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo e il valore percentuale dello sconto applicato. Il prezzo deve essere inoltre esposto in modo chiaro e ben leggibile.